Non ci sono più carote Lo so Che è successo? Non lo so Ne avevamo così tante Avevo comprato una cassa da 2 kg Mi ricordo Costavano 1 euro e 99 Per 2 kg È stato un buon affare Indossavi quel pullover rossa Che mi piace così tanto Quello che ti regalai dopo il funerale di Rosarella Sì Quello pullover è bellissimo Non so perché abbia smesso di indossarlo Stanchezza La gente si annoga di tutto Sono ancora incazzata per le carote Sei sicuro che non vuoi scendere giù per comprarle? No Sto troppo bene qui con te E poi non voglio muovere il culo Forse potremmo ordinare a domicilio? Non si possono ordinare le carote a domicilio La vita è così deludente C'è sempre qualcosa che va storto Perché non possiamo essere felici con quello che abbiamo? Questo è il dramma del genere umano Se vuoi posso cucinare delle indivie Ok Fa la bella indivie Grazie a tutti Grazie a tutti.